Il Piro Tecnico del Cavaliere in Sogna Gaetano e Figlio Benito, il re dei fuochi d'artificio. Tre batterie professionali da 100 colpi, 99 euro. Silvi, 100 colpi professionali, da 230 euro a soli 90 euro. Tre pacchi di Magnum, 10 euro. Tracchi italiano in F2, solo 2 euro al pezzo. Batteria a 16 colpi in offerta, a 10 euro. Razzo Rocket professionale, 6 pezzi, 10 euro. Bengala 20 getti, solo 4 euro a confezione. Il Piro Tecnico, a Taranto in via Regina Elena Angolo Diamazzini.